Ok, nome? Nicole. Ciao Nicole, cosa sei venuta a fare oggi da noi? Provare una nuova avventura. Ah sì, cosa facciamo oggi? Dimmi. Spero qualcosa di bello che posso poi fare sicuramente. Ok, sei vestita così, quindi direi che andiamo a lanciarsi da un aereo. Prima possibile. Allora andiamo a 4.000 metri, saltiamo e voliamo, ci divertiamo. Ok? Grande. Abbiamo cinque? Super. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il banner. Grande. Grande. Super, dammi cinque qua. Dov'è che sei? Qua, 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 cinque. Yeah! È brava Nicole.